Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archive, oggi siamo qui in questo nuovo commentary Oggi siamo qui con un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la patch di GoldCrowby di Black Ops 3 Sull'easter egg che appunto per chi magari ancora non lo sapesse è più di un anno, forse più di 400 giorni Che appunto c'è un bug per l'easter egg di GoldCrowby, soltanto su console e non su PC Arrivati verso la fine del filmato finale, praticamente la console, o comunque il gioco, crasha, si frizza Quindi non ci dà né l'easter egg completato, né l'obiettivo E non avendo completato l'easter egg non possiamo fare il cosiddetto super easter egg di Black Ops 3 con tutti i vermi E la chiave delle vocazioni è The Shadows of Evil Che ci permette di avere il biglietto da visita, il milione di XP E ovviamente appunto l'RK5 come arma iniziale insieme all'MR6 Da circa un mesetto sono riusciti a trovare una specie di soluzione contattando il Better Business Bureau Che serve molto per i clienti o gli acquirienti di certi giochi Che se qualche contenuto, soprattutto in questi casi DLC a pagamento, non funzionano al 100% Si può contattare appunto questa organizzazione e scrivere appunto che c'è un problema su questo gioco Loro contatteranno chi crea il gioco e chi lo pubblica, quindi in questo caso Trash e Activision E c'è bisogno di una risposta in meno di 30 giorni sul perché questa cosa non funzioni E appunto una soluzione Questa cosa è fatta appunto perché God Trovi essendo un DLC a pagamento Noi paghiamo per un contenuto che però non funziona come dovrebbe Perché l'easter egg non funziona, non possiamo completarlo E quindi stanno letteralmente, non dico facendo una truffa perché non è proprio così al 100% Ma stanno vendendo un contenuto incompleto E questa cosa appunto non è proprio il massimo E avevano seguito ad esempio un altro ragazzo che Per chi ha l'instinct di PC Vanno ha fatto una roba simile per un obiettivo di Steam Quindi non è fissato di obiettivi di True Achievement Se siete riusciti a fare un pochino questa cosa Sono molto contento e appunto Spingiamo molto per queste cose In modo che funzionino al 100% Anche perché appunto Vedere in qualunque gioco che sia un AAA O un Indy, qualcosa che non funziona Che può essere un contenuto in sé Una cutscene, un easter egg O semplicemente un obiettivo o un trofeo Che per certe persone può essere una fissazione O comunque qualcosa di divertente da fare in più E vedere queste cose che proprio non funzionano Tu comunque magari completi tutti i requisiti E l'obiettivo non si sblocca Il trofeo non esce fuori È parecchio frustrante E poi chiaramente se è qualcosa che abbiamo pagato Anche magari a prezzo pieno Perché comunque un DLC volano 15€ Anche acquistando Black Ops 3 con tutti i DLC assieme Un po' di soldi volano Non è una cosa Diciamo o gratuita Con un prezzo molto molto basso Per cui chiaramente questa cosa è stata Veramente fantastica E abbiamo una data Per la sua teoretica risoluzione Questo giovedì il 15 di agosto C'è scritto che arriverà appunto La patch per il console Per sistemarlo Inoltre ho detto Tenete d'occhio Twitter Perché lui scriveremo Quando la patch è in live E quindi funzionerà Di questo sono appunto Veramente molto contento Perché Atrearch ha risposto In maniera molto molto repentina A questo problema Adesso che abbiamo contattato Il Better Business Bureau E quindi appunto c'è una patch E finalmente L'easter egg di Gorlock Covey Verrà risolto al 100% Quindi penso che Reddit quel giorno Esploderà Perché appunto La discussione lì È sempre stata molto accesa Per quanto riguarda Risolvere l'easter egg di Gorlock Covey Sia i tempi Quando il problema Per la prima volta è uscito fuori Sia per l'anniversario Di circa un anno Che è stato Mi sa il mese scorso Comunque poco tempo fa E adesso soprattutto Che avevano annunciato Una risoluzione di questo errore Molti erano veramente Molto molto contenti Appunto la discussione Si era riaccesa In maniera molto molto potente Quindi immagino che questo giorno Sarà qualcosa di veramente assurdo Si vedranno millemila post Sia lì su Twitter Su Instagram Su qualunque social possibile Tutti ne staranno parlando Però appunto È una cosa positiva Perché parlare finalmente Di qualcosa di positivo Che viene risolto Dopo così tanto tempo E la Trearch Che finalmente ha riconosciuto Che c'è un problema Perché comunque Moltissimi scrivevano Sia in privato Al supporto Activision Al supporto Trearch O anche appunto sotto i post Qualunque post Di Reddit E Twitter E non c'era mai Una risposta diretta Anche se appunto La Trearch Ogni tanto risponde a certe cose Per dare qualche informazione Qualche precisazione Ma di questo appunto Non avevano mai mai parlato Quindi per fortuna Contattando questa Spezia di autorità Che è in America Che è il Better Business Bureau Che a quanto ho capito Appunto funziona veramente bene Non è la migliore delle aziende Ma per questi problemi Si attiva Veramente molto in molto in fretta Ed è comunque Un'azienda riconosciuta Quindi appunto Se molti la contattano Se ne hanno un problema Loro contattano Il publisher E il developer Per solitamente appunto In 30 giorni Questa cosa Viene comunque Innanzitutto riconosciuta Che è la parte più importante E poi ovviamente risolta Per cui ragazzi Se andiamoci in questa data Il 15 di agosto Io sicuramente appunto Penso Che farò un altro video L'ennesimo Per quanto riguarda Questa risoluzione Finalmente definitiva E speriamo non capiti più Né per Black Ops 3 Né per Black Ops 4 Che qualche easter egg Rimanga bloccato Appunto con dei crash Dei freeze O obiettivi barra trofei Non sbloccati E appunto magari Anche se capita Che venga risolto Molto molto in fretta Perché appunto Più di un anno Per un easter egg Veramente importante Un po' magari complicato E difficile rispetto ad altri Di Black Ops 3 Però comunque Molto molto divertente da fare Molto molto interessante Con anche una boss fight finale Davvero davvero figa Appunto rimanere tutto bloccato Che tutto lo sforzo Per riuscire finalmente A completarla Mi ricordo ancora Il passaggio delle bombe Quante partite Sono concluse lì E appunto arrivare fino alla fine E al filmato appunto Si blocca Non ci dà L' easter egg Non ci dà nessuna ricompensa E appunto Non possiamo mai mai farlo Non c'è nessuna risoluzione E soltanto su PC Appunto questa cosa È stata risolta In maniera separata Mentre adesso appunto Su console dove c'è La maggior parte dei giocatori Xbox One e PS4 Molto molto a breve Avremo una soluzione definitiva Per cui ragazzi Fate sapere come al solito Voi cosa ne pensate Di questa risoluzione Che arriverà Molto molto presto Se appunto magari rigiocherete Grollcrawly Soltanto appunto Per seguire un pochino La moda di tutti questi giorni Che immagino Moltissime persone Torneranno finalmente O a completarlo Per loro la loro prima volta O qualcuno la rigiocherà Anche soltanto per divertimento E dire Oddio adesso funziona Non esplode più il gioco Mentre la sto completando Fate inoltre sapere ragazzi Cosa ne pensate Di questa risoluzione Appunto con Il Better Business Bureau Perché appunto Per più di un anno Non c'è stato nessun Riconoscimento del problema Nessuna soluzione Nessuna discussione ufficiale Da Né Activision Né Trerce A parte comunque Il supporto che diceva Ah ok c'è questo problema Ma alla fine Non succedeva assolutamente nulla E abbiamo dovuto usare Questa strada Molto molto secondaria Almeno a mio parere Perché comunque Ci sono arrivati dopo molto tempo Ah oddio ok Abbiamo provato questo Questo e questo Adesso vediamo se questo funziona Come non dico Ultimissima risorsa Però eravamo più o meno A quel punto Spero come sempre ragazzi Che vi oggi sia piaciuto Vi sia stato utile Vi invito come sempre A iscrivervi al canale Per seguire tutte le news Per quanto riguarda Black Ops Zombie E noi ci diamo come al solito Ad un prossimo video Un abbraccio Ala